Donna un po' trasgressiva, donna un po' fuori dalle regole, quindi che ama interpretare una moda non catalogata, quindi una leggings con le frange e una maglia vintage, boimienne, però boimienne femminile, la mia boimienne, boimienne bambola che gioca coi tiffi, coi colli, coi merletti, tagli classici, ben definiti, poche fissure. Gli animali hanno in anima e se li guardi ti rendi conto che parlano attraverso gli occhi, ucciderli per il gusto di indossarli è una cosa atroce e io non me lo posso più permettere, vorrei che il mondo si fermasse davanti a tante altre città, ecco perché ha firmato con la labbra. Grazie a tutti! Il progetto che tutte le mattine ho ben presente nella mia mente è di rinforzarmi, cioè di riuscire a vestire sempre più donne nel globo, altri non ne ho, non ho comunque continuato a fare il mio lavoro con la passione che fino ad oggi mi ha portato qua. Grazie a tutti! Grazie a tutti!